Presentato alla comunità farindolese il progetto per la realizzazione di un monumento denominato il Giardino della Memoria, che sorgerà con tutta probabilità su quello che resta ora dell'hotel Rigopiano, per ricordare le 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. L'architetto Roberto Chimisso, rappresentante del Comitato Vittime di Rigopiano, ha illustrato tre tipologie di progetto, ufficializzando anche che entro il mese di settembre sarà donata dalla comunità sarda di Orosei, una stele che sarà la parte centrale di questo monumento. A completare l'opera una piccola cappella e dei servizi accessibili anche ai disabili. Tutto verrà realizzato per fasi successive in funzione del reperimento dei fondi e si spera di poter collocare le opere di Orosei per ottobre. Questo incontro serve proprio per valutare insieme alla cittadinanza la localizzazione, perché sulla realizzazione di un giardino della memoria in ricordo della tragedia non ci sono questioni da discutere. Mentre sulla localizzazione sì, perché ci sono alcune ipotesi, qualcuna è più suggestiva dal punto di vista ambientale, qualcuna è più semplice nella fase realizzativa. Alla presentazione c'era anche il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha espresso tutto l'appoggio dell'amministrazione comunale alla realizzazione di un monumento unico da condividere tra Comitato e la popolazione di Farindola, per mantenere sempre viva l'attenzione su quello che è accaduto. Non è mancato anche qualche momento di tensione per la realizzazione dell'opera, si è dato subito dal buonsenso delle persone, visto il tema che si stava affrontando. Il ricopiano non sarà più quella di prima, è sempre stato un luogo di felicità sia per i Farindolesi ma anche per l'area vestina, per tutta la provincia di Pescara. È chiaro che quello che è successo deve essere d'ora in poi considerato per quello che è, quindi è assolutamente necessario ricordare con rispetto e con preghiera quella immane tragedia. e quindi io aspico che anche la comunità farindolesi trovi una sintesi con il Comitato affinché questa progettualità si realizzi. Un plauso allo straordinario operato della magistratura che sta facendo un lavoro egregio per accertare la verità, quindi massima fiducia nel procuratore e nei suoi collaboratori che la verità venga a galla.